Gioi 28 giugno, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qui di nuovo per raccontare Milano e i suoi protagonisti, la città, quello che avviene in questa grande città. Sabato avviene qualcosa di particolare, di cui siamo anche ben contenti perché saremo partner ufficiale di questa manifestazione. Il Municipio 9 ha organizzato una giornata, una giornata di sport, di sport da ring, in piazza Gaia Aulenti. E noi saremo lì, saremo lì per raccontarla, saremo lì per raccontarla live sulla piazza, con il nostro intrattenimento, con la nostra parte più radiofonica, ma anche, come lo sapete sempre, con le nostre dirette video su Facebook per raccontare tutto il giorno quello che succederà. Per capire meglio che cosa potrà succedere, come mai e perché un municipio si mette e si impegna in una giornata del genere, abbiamo invitato il massimo esponente del Municipio 9, il Presidente del Municipio 9, Giuseppe Lardieri. Buongiorno Presidente. Grazie mille di essere qui, insomma sono anche giornate un po' convulse per lei, quindi la ringrazio davvero tanto per essere qui con noi oggi. Dicevo appunto, sabato, sabato una giornata interessante perché avete deciso come Municipio di dare spazio a quegli sport che a volte, dico sempre, li chiamano un po' minori, ma vorrei capire poi minori di chi, infatti. Spazio di chiamano sport minori, sono sport da ring, che però giustamente fuori a andare il Presidente mi diceva, sì proprio sono quelli che poi ci danno le medaglie alle Olimpiadi, ai Mondiali, agli Europei, ma nel mondo siamo famosi per quegli sport. Cosa succederà e com'è venuta questa idea quindi della giornata di sabato? Sì grazie, mi fa piacere di averti anche a fianco sabato così potremo raccontare la splendida giornata. È un mio consigliere, Pellegrino Michele, il Presidente della Commissione Turato, sono venuti da me dicendo di avere quest'idea, poi è stata anche parlata, abbiamo discusso con l'assessore Pellegrini, l'assessore allo sport, e un'idea di dare grande risalto a questi sport che io non uso la parola minore, non mi piace perché effettivamente sono appassionato, mi piace e basta vedere in questo periodo, accendo la televisione, guardo tutto tranne che l'Italia ed è uno sport maggiore dove vengono spese tantissimi milioni ma non siamo riusciti ad andare neanche ai mondiali. Invece questi ragazzi che sudano, che lavorano nelle palestre, che a volte fanno fatica anche ad andare avanti, meritavano secondo noi uno scenario come Piazza Gaulenti, una giornata dedicata a loro perché questi sport sono sport dove si fatica, dove ci sono regole, questi sport danno delle regole. I ragazzi che li seguono, perché vengono visti spesso e volentieri sport da ring come sport violenti, no non sono sport violenti, sono sport dove c'è lealtà, è uno degli sport dove alla fine, anche vediamo il pugilato, si abbracciano, anche dopo che... Ma infatti io porto spesso l'esempio di dire, insomma, se uno sport è di contatto e ci deve essere il contatto, il contatto viene regolamentato, viene detto il pugno si può dare così, come non si può dare cos'ha, a differenza di altri sport, a me dispiace ci dà sempre il calcio, dove invece il contatto non dovrebbe esserci ma poi il furbetto c'è sempre che dà il colpetto, no? E quindi anzi poi si rischia di diventare più violento quell'altro tipo di sport, piuttosto che questi sport che per nulla sono violenti e che insomma incubano anche un gran numero di ragazzi, di giovani anche. Certo, tantissimo, io in questa settimana, l'altra sera, ero in pizzeria, due ragazzi mi dicono «Ah, lei è il presidente», mi hanno riconosciuto, dice «Guarda che verremo in Piazza Gaulenti, che bella cosa che avete fatto». Cioè vedere questi ragazzi che non hanno attenzione, quando dicono «Cosa fate? Eh ma pugilato, tai chi?», cioè tutti questi sport, king boxing, sport da ring, dove devi avere anche personalità. Serve anche a dare personalità a questi ragazzi, i ragazzi ne hanno tanta, però hanno bisogno di scenari per farli confrontare, per far vedere che l'attenzione a loro c'è. Perché sono queste palestre, io vado in alcune di queste palestre, mi invitano, ci vado volentieri e vedi che c'è tanta, tanta fatica anche dal punto di vista economico. E allora hanno difficoltà perché a volte anche a fare solo un po' di pubblicità, non ci sono i soldi per fare questa pubblicità perché si dedicano anche a costruire il ring, si danno da fare loro, i ragazzi, amano questo sport. Allora è giusto che noi diamo attenzione e lo diamo in un posto che è abbastanza conosciuto nel mondo e tanta gente che anche non farà parte del nostro municipio che gira lì, può entrare in contatto, può salire sul ring, può misurare i guantoni, può entrare in contatto con questi sport. Ed è una bella soddisfazione. Quando vedo i ragazzi contenti, siamo contenti anche noi, vuol dire che qualcosa stiamo facendo. e lo meritano. Addirittura hanno chiamato, mi diceva adesso, il consigliere, i signori della Confindustria, che vogliono esserci anche loro, con la loro rappresentanza. Quindi, come vedete, questi sport poi sono praticati, non c'è ceto sociale. Quindi è una cosa bella che si ritrovano e si misurano. Poi vogliamo fare alla fine della giornata il mega selfie, con la maggior parte di persone che praticano questi sport, chissà, il Guinness del Guinness record. Sarebbe da fare una chiamata al Guinness per sapere quant'è il mega selfie. Ci stiamo provando a chiamare, se ci rispondo perché vogliamo proprio vedere. Quindi tutti i ragazzi che praticano questi sport, vi aspettiamo in piazza Gavolenti dalle 10 di mattina fino alle 19. Venite tutti, avrete tutti soddisfazione, avrete tutti di poter dimostrare qualcosa, di far vedere il vostro sport preferito, quanto valore c'ha. Saranno tanti fatti di sport, sono tutti sport da ring, ma saranno tanti di sport. Molti, mi diceva, anche che arrivano dal territorio. Sì, la maggior parte sono del territorio, però non abbiamo voluto restringere soltanto al territorio. È giusto che ci sia, perché poi c'è il partnership con noi, che ha lavorato molto bene, voglio salutare l'attoressa Giordani, che è sempre molto attiva, come Coni. Al Coni si è davvero grandissima. Quindi abbiamo una garanzia anche come partner per la riuscita. Come serietà, anche della giornata, delle società scelte, perché appunto Coni fa proprio da garante quasi della giusta... È un marco di garanzia. È un marco di garanzia della giusta riuscita della giornata. Diceva appunto, sono sport a cui bisogna dare spazio, anche perché spesso in te sono anche una buona alternativa ad altre invece derive che si potrebbero prendere, soprattutto nelle zone più periferiche della città. Sì, Prendo, hai centrato, perché anche in periferia dove avevamo un progetto, e questo mi dispiace dirlo, adesso non voglio fare nessuna polemica politica, però è un dato di fatto, e hanno occupato abusivamente la licea Omero a Bruzzano, dove noi, dove c'è una palestra, che è in buone condizioni, e dove il nostro progetto era proprio questo, di fare, di praticare questi sport in modo da incanalare. Perché a volte, addirittura, si vede spesso in televisione, anche chi sta in ufficio, sfoca la sua rabbia con determinati sport, o va in palestra, bene, quello è un modo per incanalare positivamente quella rabbia, quell'energia, non diciamo rabbia, quell'energia, trasformarla in energia positiva, perché anche il confronto con un'altra persona, leale, con delle regole, beh, dà la soddisfazione. A volte puoi anche perdere, ma hai dimostrato forse a te stesso che ti sei misurato con qualcuno, poi è superiore, ti alleni, e ti dà lo spunto per poter migliorare. Migliori e potersi... Ti dà una motivazione, quindi noi vogliamo, lo spirito è questo, di dare motivazione ai ragazzi, piuttosto che stare in mezzo a una strada, praticate gli sport, sport semplici, che non ci vogliono grosse attrezzature, non devono spendere tanti soldi, e allora, ognuno può avere il suo spazio, e questo per noi è fondamentale, quindi ha una valenza, sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista sociale. Ecco, motivazioni e diciamo, l'incanalamento dell'energia è forse quello che fa anche tutti i giorni il presidente Lardieri, mi vengo a dire, perché insomma, portare avanti il municipio, un municipio importante, ma un municipio l'uomo, non deve essere sicuramente facile, siamo ormai a metà mandato, sono due anni, come sta andando? Ma guardi, io sono parte in causa, quindi non posso dire che bene, con tutti i problemi che ci possono essere, non li ho mai nascosti, io parlo con i cittadini, incontro tantissimi cittadini, non nascondo mai nulla, però dico sempre, a ogni problema ci sono almeno due soluzioni, quindi cerchiamo di praticarne almeno una, e ogni problema con calma, l'unica cosa non è un caffè al bar, che si ordina e ti viene servito, lo bevi e hai finito, dei processi amministrativi hanno la loro lentezza, però mi sono reso conto, che quando ai processi amministrativi, la spinta gliela dai, i processi amministrativi poi possono funzionare, quindi dipende anche molto da noi, dobbiamo essere sempre sul pezzo, il territorio non dobbiamo mai, mai, mai trascurarlo, dobbiamo stare più sul territorio, che in ufficio, è un territorio molto alto, è un territorio 22 km quadrati, è il primo municipio come densità di popolazione, 186 mila abitanti, io ricordo sempre, terza città di Lombardia, se fosse un comune a posto, la seconda dopo Brescia, no, ma mettevo Milano prima, se lo splittiamo, sarebbe il sindaco della seconda città di Lombardia, della seconda città della Lombardia, dopo Brescia, quindi non è poco, ma una città, città, città infatti, una città giusto per dire, perché ricordiamo, abbiamo due università, abbiamo cinque stazioni ferroviarie, cinque ospedali, abbiamo di tutto, non ci manca nulla, siamo la zona, la zona in municipio, più infrastrutturato di Milano, più il passante, 91, 92, quindi la circolare, la circolare, quindi abbiamo, ci sono le scuole, non ci manca, nulla, possiamo lavorare, confiniamo con paesi importanti come Sesto, Bresso, Cinisello, quindi non è poco, abbiamo il Parco Nord, abbiamo l'Arcimboldi, non ce lo dimentichiamo, possiamo offrire, ma veramente di tutto, dalla cultura al sociale, è uno dei municipi con il più alto numero di associazioni, dove l'associazionismo è pulsante, serve da stimolo, quindi per noi è veramente eccezionale, io cerco di non risparmiarmi, ho detto che ormai più di 21 ore non posso fare, quindi però, è la soddisfazione, questo è un lavoro che secondo me si può fare solo se c'è passione. in due anni so che ha fatto tante tante cose, lo sappiamo, anche un po' ha dato forse motivazione anche a degli uffici che magari uno pensava essere un po' stanco, invece ho visto che insomma, voglio ringraziare, voglio ringraziare, e lei la seguono volentieri? voglio ringraziare, ma di cuore, i ragazzi che lavorano, perché diciamolo, 186 mila abitanti, abbiamo 25 dipendenti, e alcuni sono part time, qualcuno con qualche problema, quindi noi si lavora con pochissimo, pochissimo personale, eppure facciamo di tutto per soddisfare le esigenze dei cittadini, prendiamo l'esempio di Villa Letta, quando abbiamo cominciato a dire i matrimoni, mi sono inventato i matrimoni a mezzanotte, e mi dicevano, sei matto, non ti seguirà nessuno, invece i ragazzi hanno accettato questa sfida, perché io dico sempre, accettiamo le sfide, dimostriamo a noi stessi, e qui veniamo allo sport da ring, tutto è collegato, il nostro pensiero è un pensiero collegato, non è sconnesso, accettiamo le sfide, lanciamo le sfide, poi tocca a noi, se lanciamo le sfide dobbiamo farlo, e in poco tempo mi hanno seguito tutti, adesso c'è un entusiasmo, e chiunque viene, se ne va via con una grande soddisfazione, si aspettavano dei matrimoni civili, roba da 5 minuti, pratica amministrativa, non è una pratica amministrativa, per noi è un'emozione ogni volta, la passa così via liscia, come se fosse una cosa normale, ma a Villa Letta, ci si può sposare a mezzanotte? Allora, era il pensiero è fino a mezzanotte, per motivi non burocratici, tecnici, l'ultimo matrimonio che abbiamo fatto è stato alle 9 e mezza, però, perché devono fare il backup, quindi le macchine devono fare il backup, allora stiamo spostando, ma il mio obiettivo è sposare fino alle 23 e 30, che mezzanotte è rischioso, fino alle 23 e 30, per poter dare una serata da sogno, perché Villa Letta adesso con l'illuminazione che si sta facendo anche nella parte dietro, la piazza che stiamo facendo, tutta la piazza davanti, con una buona collaborazione anche col comune, quindi con l'assessore Maran abbiamo messo una cifra a testa, metà cifra a testa, e facciamo, sono già partiti i lavori, per settembre abbiamo tutta la parte dell'entrata, quindi della villa, che sarà un biciù e sarà un palcoscenico a cielo aperto, dove inaugureremo con i promessi sposi, con i costumi originali di quando ero bambino, io che lo vedevo per televisione, perché la regista che ha questi costumi abita a Dergano, e quindi noi vogliamo fare i promessi sposi a Villa Letta, con le persone che possono stare, quindi diventa un teatro, matrimonio, teatro, si riversano nel quartiere Affori, abbiamo fatto i conti vedendo le persone che sono venute, minimo 7.000-8.000 persone all'inizio, arriveremo a 10.000-12.000 persone, che conosceranno il quartiere di Affori, che si riverseranno... Proprio questa cosa del matrimonio, non è solo un discorso di chi abita lì, perché a un punto essendo, come si chiama casa comunale, come è che diventa quando si può sposare a casa, chi chiama così, chiunque a Milano potrà decidere di sposarsi una sera a Villa Letta, quindi insomma, è un servizio che il municipio 9 fa a tutta la cittadinanza milanese. Quindi è da vedere come un servizio, è quello che ti dicevo fuori onda... Mi fa anche le unioni civili, mi fa, per il momento ancora non ci hanno dato il registro, però tutto ciò che è amministrativo e si deve fare... Ok, va bene, non è un problema. Non è un problema. Io sono un amministratore, come amministratore io devo fare quello che mi compete. Benissimo. Per quanto riguarda il matrimonio, quello che dicevo, lunedì e mercoledì non si paga nulla, quindi si fa solo la domanda in via larga e si può soltanto la marca da volo. Quindi dipendenti ci sono. Invece il sabato, gli impiegati, però utilizziamo sempre gli stessi impiegati che sono al municipio, quindi li togliamo dal lavoro amministrativo che c'è, perché oggi arrivando al municipio, almeno di carte ne abbiamo tantissima, quindi di compiti ce ne sono. Alla fase dell'epoca è digitale. Ce ne sono, ma anche questo cercheremo di sviluppare, perché ho dato mandato a un consigliere che si occuperà di questa materia perché vogliamo sburocratizzare e presentare delle procedure snelle che siano un pochettino più chiare. Queste persone vengono a lavorare a Vilaritte, ma mancano libero, quindi abbiamo questi problemi. Il sabato invece vengono in straordinario, ma lo straordinario che viene pagato alle persone, ai colleghi che vengono a lavorare lì, perché noi non prendiamo niente, noi amministratori, no, perché qualcuno può pensare, noi non prendiamo niente. I consiglieri, i presidenti, i assessori non prendono niente. Invece gli impiegati, che per loro è un lavoro, prendono lo straordinario, ma quello straordinario, avendo fatto, la media adesso è di 10-11 matrimoni ogni sabato, 11 matrimoni per il comune diventa un guadagno, perché la spesa degli straordinari è massimo 6-700 euro, il guadagno è 1.000-1.100. Quindi è diventato, da una pratica, da un servizio, senza chiedere ai cittadini, chissà quale cifra immagino, 97 euro. Ok, vabbè. Quindi è una cifra... Trovate un posto di spolazione 97 euro, bello come Vilaritte, soprattutto. Addirittura, possono fare un rinfresco lì, chi vuole, sulla sala a fianco, per un tutt'uno, roba di mezz'ora, c'è solo un brindisi. No, date un servizio. Ci sono le Arcade. Mi è diventato wedding planner, mi è diventato anche il Presidente. No, no, ma sono convinto che è già per settembre, ci si sta riempendo. Insomma, in un modo anche per dire, facciamo una cosa bella, la facciamo bene e in più facciamo guadagnare anche qualche soldo al comune, neanche solo al municipio. Al territorio. Quando guadagni... No, ma... Tra poco, l'ho già chiesto e penso che dovrà arrivare anche questo registro, di sposare le coppie che vengono da fuori Milano. A quel punto, chi si sposa da fuori Milano, la cifra è 500 euro, che è una cifra bassa rispetto a chi va sposarsi in altri posti, sposarsi a Villaletta, penso che ha un suo fascino. 500 euro, bene, quelli sono soldi che entrerebbero nelle casse comunali, quindi anche municipali, che potrebbero servire per fare della manutenzione, che potrebbero servire da ridare, da riversare alle associazioni per eventi. E quindi è un circuito virtuoso, un circuito virtuoso che si attiva, che può portare solo beneficio alla popolazione. C'è solo il fatto di persone che mi dicevano, vengono lì, dicono, ma conoscevate Villaletta? Sì, ci venivo da bambino, ma siete saliti mai su alla Sala delle Arti? Vedete che bella che è? Ci hanno chiesto, con Rotary per esempio, abbiamo fatto la serata mondiale del Rene, perché li avevo invitati, avevano visto quella sala, un matrimonio, avevano visto quella sala, io poi faccio una pubblicità enorme per la Sala delle Arti, la Sala Nostra Matrimoni, che è bellissimo, poi c'è il prato, un parco fantastico, un parco fantastico Villaletta, c'è una cosa di, con degli alberi, non so che sono secolari, credo, sì, abbiamo l'albero dove Manzoni si fermava sotto, e chi lo sa, forse avrà pensato ai Promessi Sposi, 5 maggio, tante di quelle, di quelle sue. Cosa che diceva, le fa attornare i Promessi Sposi. Sì, e noi proprio in omaggio al Manzoni, poi faremo anche, quest'anno è l'anno del Rossini, quindi faremo delle belle rappresentazioni del Rossini, e ho in testa qualcosa da fare anche in Piazza Cavulenti, tipo il barbiere di Siviglia con le musiche. No, sono contento perché finalmente stiamo parlando di cose belle, di cose positive, di che, insomma, finalmente i municipi riescono a fare qualcosa. Il 6 e il 7 di luglio, però dobbiamo vedere se riusciamo, perché essendo periodi di vacanza, lo ripeteremo, è aperta quest'idea, però sarà a settembre, il Municipio 9, visto con l'occhio dell'artista, ci fa piacerebbe che molti artisti, tutti gli artisti, se c'è qualcuno che è in ascolto, può chiamare tranquillamente il Municipio, perché il 6 vorremmo che gli artisti andassero in giro per il Municipio, fermarsi in qualsiasi posto, prendere l'ispirazione, cominciare una tela, e il 7 avere un centinaio di artisti nel prato di Villa Litta. che porto, perché l'artista ha sempre una sensibilità diversa, una sensibilità più spiccata, e allora avere il Municipio anche per renderci conto come viene percepito, come viene visto, che serve anche per, perché da una cosa così semplice, io dico che ci può, a noi ci devono arrivare degli input per dire, guarda, se c'è che il decoro non viene messo in risalto, beh, vuol dire che lì forse dobbiamo incidere, da qualche altra parte, se c'è qualche posto che non è conosciuto, perché vogliamo mettere nel circuito milanese, nazionale, internazionale, tutte le nostre bellezze che abbiamo nel nostro Municipio, non è solo il centro, il turismo, siamo fortunati che il turismo milanese è un turismo colto, quindi noi dobbiamo poter offrire, abbiamo per esempio la Vergine delle Rocce che c'è nella Santa Giustina, la Chiesa di Santa Giustina, perché non farlo vedere? Ho visto altri quadri interessantissimi, sono lì, noi dobbiamo esporre, la cultura è il nostro futuro, e allora, se conoscono il Municipio, se conoscono l'Ancarbicocca, per esempio, che è anche quello, è da esposizione, fanno tante cose, però viene percepito poco, invece noi vogliamo che il Municipio in lungo e in largo venga percepito, vorremmo fare adesso un angolo a Cassina Anna, anche Cassina Anna è molto bella, un altro angolo bellissimo che c'è a Bruzzano, e lì vorremmo raccogliere, abbiamo già fatto una prima riunione con la dottoressa Tasso del Castello Sforzesco, i sarcofagi che sono distribuiti nel territorio, lì è una zona molto ricca, lì per esempio a Bruzzano, si fermavano le truppe romane, l'accampamento dei famosi Castromo romani, quindi c'erano gli accampamenti come a Bruzzano, che ci sono tanti resti se si va a cercare lì, allora vorremmo fare un punto di raccolta per dire noi abbiamo anche questo. Mi viene a pensare che l'Ore è anche un municipio di Borghi, per adesso parlare di Bruzzano, parlare di Affori, la stessa provvisa comunque ancora, per quanto centrale è comunque ancora vive di... Anche per questo per esempio abbiamo pensato a una rotonda, un'identità, cos'è? Ogni quartiere ha una rotonda, in questa rotonda noi andiamo a mettere del verde e vorremmo fare con un fiore ognuno si sceglie il suo fiore caratteristico col nome scritto dentro quindi Dergano in modo che una mappa sul territorio in modo che un cittadino che si trova a passare nel nostro municipio diventa un punto di riferimento siamo a Dergano siamo ad Affori siamo a Bruzzano è un modo anche migliore di sentirsi parte di un territorio anche perché insomma dei milanesi come sappiamo ce ne sono sempre meno quindi insomma far sentire parte anche i nuovi milanesi in modo che si crea un'identità ma un'identità non separata non un'identità separata un'identità io sono qui perché poi oltre questo vogliamo fare una specie di palio un torneo un trofeo quindi lo decliniamo su tutti perché noi prendiamo degli obiettivi e poi cerchiamo di declinarlo in tutti ma di quanti anni fa il municipio 9 allora tra 9 12 13 perché poi se andiamo a vedere il quartiere segnano no ma no quello rientra in Iguarda Bicocca Prato Centenario allora se li mettiamo scendiamo nel particolare però quelli diciamo più grossi più conosciuti sono intorno ai 9 Bruzzano Aforecomasina Isola Niguarda Prato Centenario non so quante siano le contrate di Siena ma credo che siamo lì quindi fare anche un torneo un trofeo così da cercare di mettere un po' in competizione ma comunque facciamo parte del stesso municipio comunque facciamo parte della grande città di Milano cioè questa identità non deve servire no anzi in più deve servire la rotonda la facciamo con gli sponsor cioè io potevo mettere nel bilancio partecipativo e forse avrebbe avuto tanti voti perché a tutti piace questa non l'ho voluto fare questo voglio farlo con gli sponsor perché facendolo con gli sponsor giustamente gli sponsor devono manutenerla e manutenerla bene perché se no si avrebbe una magra figura e tenendo bene quella rotonda ciò che c'è intorno il bello chiama il bello se io invece una rotonda la lascio rotta la lascio abbandonata beh anche chi sta intorno noi dobbiamo dar l'esempio prima noi dobbiamo dar l'esempio e poi adesso per esempio per luglio vediamo se riusciamo per il 5 perché è l'associazione che doveva collaborare alcuni sono andati in ferie faremo un nei giardini nei tutti i parchi che noi abbiamo giardini parchi ne abbiamo parecchi però li chiamo giardini quelli più piccoli i parchi un pochettino parco Savarino parco Gellaritta parco delle favole voi avete la sede del mosto municipio parco delle favole oppure parco nord una parte di parco nord con un'associazione che si occupa anche ha un canale televisivo che si occupa di animali quindi vogliamo andare nei parchi con un'esperta cinofila per dare delle informazioni perché spesso i cani vengono presi per i figli i figli poi non ci stanno dietro e i genitori si ritrovano col cane e non lo possono alcuni cani non li sanno gestire a volte non conoscono e andare con questa persona esperta che vada a dare dei consigli anche come chi può stare l'incompatibilità entrare nell'area cani perché a volte stanno fuori piuttosto che dentro perché il mio cane non può stare con quello ma lo conosci no e come fai a dirlo perché abbai allora far dare comportamenti buona educazione comportamenti dentro l'area cani e fuori l'area cani sia per le direzioni perché stiamo partendo anche per una campagna pubblicitaria per le direzioni raccolta le direzioni spiegare a molte persone che nell'area cani se non raccogli le direzioni il tuo cane si può ammalare di giardia poi andare a spendere dei soldi dal veterinario quindi basta poco per poter dare tanto presidente siamo in chiusura come al solito la chiacchierata con lei è fluida e va via parlo troppo no no ma invece va via molto bene in chiusura ricordiamo però l'appuntamento di sabato certo vi aspettiamo tutti in piazza Gau Lenti dalle 10 alle 19 venite a vederci ma non a noi i ragazzi che daranno dimostrazione di questi sport non consideriamo le minori da oggi in poi consideriamo sport dove delle persone sudono soffrono si impegnano e vogliono dare una grande dimostrazione perfetto allora avete sentito insomma quale miglior appello di quello del presidente a questo punto noi l'appuntamento appunto è per sabato ci saremo anche noi andremo in diretta più volte sabato da piazza Gau Lenti con il nostro Andrea Sidoti che aprirà e spegnerà accenderà la diretta ogni qualvolta ci sarà uno sport nuovo da raccontare poi saremo lì venite a trovarci e trovarà che sarà anche il presidente insomma siamo lì e vi aspettiamo grazie mille grazie mille presidente buona giornata grazie a tutti anche a voi e ci si vede ancora questa sera alle ore 18 con informazione serale di Milano All News grazie mille arrivederci a presto